Dopo aver introdotto i concetti fondamentali che animano la filosofia di Hegel, andiamo a esaminare come questi concetti cominciano ad agire all'interno di quella che è la prima grande opera di Hegel, cioè la fenomenologia dello spirito, che come dicevo nelle scorse lezioni, esce, viene pubblicata nel 1807 e viene considerata da molti come uno spartiacque tra la filosofia moderna e la filosofia contemporanea. Ora, la fenomenologia dello spirito, come indica il titolo, intende presentare le diverse forme in cui si manifesta nel corso della vita umana e della storia umana lo spirito, ovvero essenzialmente la consapevolezza umana della realtà, la consapevolezza soggettiva della realtà. Abbiamo detto che lo spirito rappresenta la perfetta coincidenza tra il pensiero e la realtà, la perfetta e consapevole coincidenza tra il pensiero e la realtà. Quindi questa perfetta coincidenza in realtà non si realizza in maniera immediata, ma si manifesta progressivamente in forma gradualmente più perfetta nel corso del tempo. Quindi di fatto la fenomenologia dello spirito narra le diverse tappe attraverso cui la coscienza comprende di essere spirito, cioè comprende di essere essa stessa tutta la realtà. È interessante sapere che Hegel inizialmente non pensava a questo titolo per la fenomenologia, ma ha un altro titolo, scienza dell'esperienza della coscienza. Questo titolo ci indica proprio forse più di quello definitivo qual è l'intento dell'opera. Letteralmente indicare quali sono i vari momenti, le varie esperienze letteralmente che la coscienza fa del proprio sapere e del proprio non sapere, sino ad arrivare a comprendere il significato di questo percorso e a comprendersi appunto come tutta la realtà. Il pensiero si identifica con la realtà, ma questo non accade in maniera immediata, ma attraverso un processo, un processo che è fatto di, che li chiama di gradi o tappe della fenomenologia. E difatti appunto la fenomenologia dello spirito intende descrivere i diversi momenti attraverso cui la coscienza comprende di essere tutta la realtà, cioè di identificarsi con l'assoluto partendo invece da un punto di partenza in cui la coscienza si sente totalmente estranea rispetto alla realtà. Quindi la coscienza immatura si sente completamente estranea all'oggetto, quindi il soggetto originariamente non si sente autore affatto dell'oggetto, ma si sente dominato o comunque estraneo all'oggetto, mentre attraverso l'esperienza, cioè un percorso di comprensione di sé, giunge allo spirito, cioè identificarsi con la realtà stessa e quindi a non vedere più una distanza tra sé e l'oggetto, ma a identificarsi con la realtà, con la realtà pienamente dispiegata. Ovviamente la coscienza è già spirito, ma non sa di esserlo, cioè la coscienza è già da sempre tutta la realtà, ma non lo sa, non è consapevole, quindi il percorso che la fenomenologia dello spirito narra è un percorso di presa di coscienza letteralmente, di acquisizione, di consapevolezza. Proprio per il suo andamento, fatto di tappe, di passaggi e di tanti momenti di crisi, di difficoltà che poi sfociano in una crescita, la fenomenologia dello spirito, pur essendo a tutti gli effetti un trattato filosofico, è stata spesso paragonata ai romanzi di formazione che tanto andavano di moda in età romantica e che presentavano un eroe inizialmente, diciamo, ingenuo e sprovveduto che poi lentamente acquisiva consapevolezza di sé, delle proprie capacità, del proprio rapporto con la realtà attraverso una serie di peripezie e di difficoltà, per cui molto spesso si definisce la fenomenologia dello spirito come il romanzo della coscienza. Mi raccomando, ricordate che non si tratta da un punto di vista del genere letterario di un romanzo, ma assolutamente, ma di un saggio o di un trattato filosofico. Ora, quali sono le tappe che Hegel indica come strutturali di questo percorso? Dicevo, Hegel le chiama gradi, tappe o ancora meglio figure, cioè modi in cui appunto si manifesta, fenomenologia vuol dire proprio questo. Lo spirito sono la coscienza, l'autocoscienza, la ragione e lo spirito. Tra questi diversi momenti vi è sempre un legame dialettico, cioè sono tutti i momenti successivi, sono sviluppi del precedente attraverso il passaggio in una... passando attraverso una contraddizione dialettica. Quindi, dicevo prima, una certa tappa finisce in una crisi di identità, potremmo dire, in una difficoltà di tenere assieme gli elementi acquisiti che portano poi a una sintesi successiva. All'interno di ciascuna di queste quattro grandi figure troviamo ulteriori figure che articolano logicamente questo sviluppo. Questi momenti che la coscienza attraversa hanno sia un valore teorico che pratico, cioè riguardano sia il modo in cui la coscienza si atteggia nei confronti del conoscere sia nei confronti dell'agire. A differenza di quanto aveva fatto Kant, che come sappiamo aveva separato l'agire dal conoscere, in realtà per Kant, per Hegel, non è possibile, esattamente come non è possibile scendere le modalità del sapere dal contenuto del sapere, così non è possibile neanche scendere tra loro le facoltà. Ovvero, non è possibile pensare che l'agire possa avvenire indipendentemente dal conoscere e viceversa. Di fatto le diverse competenze dell'uomo si intersecano continuamente nella sua esperienza. L'esperienza è qualcosa di molto articolato e non è mai soltanto conoscitiva o soltanto pratica. Il percorso, come dicevo, va da una totale estranità percepita dalla coscienza nei confronti della realtà, cioè del soggetto rispetto all'oggetto, a un'acquisizione di progressiva identificazione tra i due. La coscienza di fatto è la condizione di ingenuità dello spirito. La coscienza è nella condizione di pensare la realtà come qualcosa di esterno a sé e solo lentamente comincia a acquisire una familiarità con questa realtà. Familiarità che è essenzialmente la familiarità che noi otteniamo attraverso la percezione sensoriale e cantianamente la sua strutturazione mediante le forme a priori dell'intelletto. La coscienza di fatto corrisponde a questo tipo di esperienza. Quindi la coscienza innanzitutto ha una percezione potremmo dire immediata dell'esistenza di una realtà esterna e che la chiama la certezza sensibile. Dopodiché a questa certezza, se vogliamo, si aggiunge una maggior precisione percettiva e che la chiama appunto percezione, per cui si identificano vari dati della realtà esterna, come so, i colori, le forme e poi l'intelletto sintetizza questi dati in una serie di oggetti. Ecco, la coscienza è proprio, arriva a questo punto, arriva a quello che era la conoscenza fenomenica di cui parlava Kant. Tuttavia, ripeto, pur avendo incorporato in qualche misura la realtà attraverso il processo conoscitivo, attraverso le proprie forme a priori, in realtà in questo stadio la coscienza continua a pensare che la realtà sia qualcosa di preesistente e indipendente dal soggetto che in qualche modo deve acquisirlo, farlo suo attraverso appunto gli strumenti conoscitivi. però la formazione della coscienza non si ferma qui, perché arrivata a questo punto la coscienza afferma, vuole affermare la propria indipendenza, la propria autonomia dalla realtà esterna e questo è quello che accade nella fase, nella tappa dell'autocoscienza. Non a caso la fase dell'autocoscienza è stata da alcuni commentatori egheliani, paragonata a quella fase che nella formazione dell'individuo è l'adolescenza, cioè un'epoca di letteralmente identificazione di se stesso anche e soprattutto in opposizione rispetto alla realtà che ci circonda. L'adolescente lotta letteralmente contro il mondo cercando di manifestare se stesso la propria unicità, la propria indipendenza appunto rispetto alla realtà che lo circonda. Questa autoaffermazione secondo Hegel si manifesta innanzitutto a livello di azione e andando alle origini dei rapporti tra gli uomini, Hegel individua nella lotta dell'uomo contro l'uomo essenzialmente la prima forma di acquisizione di un'autocoscienza appunto dove autocoscienza significa la consapevolezza della propria autonomia, la consapevolezza di sé. Hegel afferma che appunto un uomo lottando contro un altro si può trovare essenzialmente in due condizioni, cioè vi sarà colui che ottiene la vittoria in questa lotta a colui che risulta perdente, colui che in realtà vince è per Hegel colui che non ha paura della morte o almeno che è disposto piuttosto a rischiare l'alientamento di sé che non ha a perdere la propria autonomia. L'altro invece il perdente è colui che per paura della morte si arrende a colui che è vincitore, cioè a quello che in quel momento appare come l'autocoscienza più forte. Il risultato di questa lotta è socialmente la distinzione tra un servo e un padrone. Il padrone è colui che ha vinto perché non ha avuto paura della morte o comunque ne ha avuta meno, mentre il servo è colui che ha avuto paura di finire la propria esistenza biologica e quindi ha preferito sottomettersi. Ovviamente da un punto di vista esistenziale il padrone acquisisce coscienza di sé, cioè grazie alla vittoria sul servo egli ha una preminenza, un'autonomia, un ruolo che gli è riconosciuta proprio dal fatto di avere un servo che dipende da lui. Il servo invece è come se avesse letteralmente perso la propria coscienza, non è nessuno, non è niente, il padrone anzi non lo considera neppure come un'altra autocoscienza con cui confrontarsi. Il servo è ridotto a una sorta di cosa e questo era il legame tra servo e padrone nelle società antiche. Qui Hegel sta sovrapponendo, se vogliamo, quello che è un percorso individuale di ciascuna coscienza con quello che è anche il percorso storico dell'umanità. Le società antiche erano fondate essenzialmente su una distinzione tra padroni e schiavi, tra liberi e schiavi. Ora, quindi dicevamo il padrone sembra aver ottenuto un autoriconoscimento e quindi aver acquisito una propria autocoscienza, mentre il servo sembra aver perso coscienza di sé. In realtà però Hegel dice la situazione tende a rovesciarsi perché il padrone acquisita questo dominio sul servo è come se si fermasse e d'altra parte però il suo riconoscimento come padrone dipende dal servo, cioè se non avesse il servo il padrone non sarebbe padrone e quindi il suo autoriconoscimento dipende da qualcosa di esterno, dipende dal riconoscimento del servo, mentre il servo comprende progressivamente la propria importanza e anche la propria autonomia. In che modo? Beh, innanzitutto scoprendo, comprendendo che è il padrone a dipendere da lui, perché senza il lavoro del servo il padrone non potrebbe essere padrone, ma soprattutto secondo Hegel è attraverso l'attività del lavoro che il servo acquisisce la propria coscienza di sé. Perché? Perché il lavoro è ciò che fa sì, il lavoro del servo è ciò che fa sì che il padrone dipenda dal servo, prima cosa. Seconda cosa più importante, l'attività lavorativa mette il servo nella condizione di poter fare letteralmente suo il mondo, di poterlo manipolare, trasformare nelle forme che gli desidera. Cioè il servo acquisisce la propria coscienza della propria importanza per il padrone, ma anche la coscienza della propria capacità di trasferire letteralmente sé stesso nella realtà esterna, cioè di oggettivarsi nel prodotto del proprio lavoro, trasformando la realtà attraverso il proprio lavoro. Rimani comunque nel rapporto tra il soggetto, in questo caso il servo, e la realtà una estraneità, cioè il servo continua a pensare che la realtà sia qualcosa di esterno a lui, ma su cui lui può agire e che può modificare, quindi non la subisce più passivamente come faceva prima nella prima fase della sua servitù e come faceva la coscienza che comunque pensava di semplicemente dover acquisire dati, informazioni dalla realtà, ma vi agisce sopra. Quindi diciamo che il rapporto è ribaltato perché se la coscienza era ancora, subiva prevalentemente l'azione dell'oggetto, invece nella fase dell'autocoscienza è il soggetto che prende il sopravvento sull'oggetto. Per questo che Hegel chiama questa fase la dialettica del servo signore perché il servo letteralmente diventa signore della realtà.